Qual è la fotografia tipo di un papà separato alla soglia del 2018? Allora, in Sardegna purtroppo si segue un po' il trend nazionale, una copia su tre si separa. In Sardegna purtroppo abbiamo una realtà, tra virgolette, povera, per cui la maggior parte dei separati ha grosse difficoltà a sopravvivere alla separazione. Quali difficoltà ad esempio? La difficoltà maggiore è sicuramente quella economica, che peraltro è anche quella che crea maggiori frizioni nella separazione, nel conflitto coniugale. Diciamo che almeno l'80% del conflitto è proprio dato da problemi economici. Il secondo motivo è il rapporto con i figli. Pertanto che cosa fa l'associazione per aiutare i papà separati, i quali la maggior parte risultano in una condizione economica disagiata? Allora, la nostra associazione cerca di aiutare i separati sotto due profili, sia sotto il profilo legale, dando dei consigli, dei suggerimenti su come gestire la separazione, oppure sotto il profilo psicologico abbiamo uno staff di professionisti che cercano di aiutare i genitori, sia le mamme che i papà, a gestire il rapporto con i figli. Proprio per il motivo che dicevamo prima, per il conflitto, a volte crea incertezza su come gestire il rapporto. Ecco, i nostri psicologi cercano di aiutarli in questo momento.